E' ormai alle porte l'International Games Month che si terrà domenica 26 novembre al Museo di Storia Naturale di Foggia. L'evento è organizzato dall'Associazione Italiana Biblioteche con l'obiettivo di sottolineare il ruolo ricreativo e formativo del gioco per ciò che concerne i servizi bibliotecari. Si tratta di una nuova apertura del museo dopo lo straordinario successo della scorsa settimana. E' stata confermata la presenza della discacchifoggia, affiliata Federazione Scacchistica Italiana Econi, la quale è instaurato un patto di collaborazione con la biblioteca. I professionisti degli scacchi quindi daranno nozioni al pubblico che vuole imparare le regole del gioco. I giochi da tavolo invece saranno mostrati da appassionati giocatori che frequentavano abitualmente l'area gaming della biblioteca.